Oggi, come ogni anno, il 17 di novembre, è la festa del prematuro. È una festa che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni su questa realtà, che è una realtà importante. Considerate che un neonato su dieci nasce prima del tempo e che durante la pandemia sono anche aumentate le nascite premature. Cosa abbiamo pensato di fare quest'anno? Quest'anno abbiamo pensato di far entrare i nonni in terapia intensiva insieme a mamma e papà, perché noi pensiamo che mamma e papà non sono semplici visitatori, ma sono parte della cura e quindi avere la famiglia vicino sicuramente ci aiuta in un'alleanza terapeutica che produce degli effetti assolutamente benefici e che sicuramente fa avere più successo. I nonni non hanno avuto mai la possibilità di poter vedere i loro nipotini e ci sembrava una cosa, veramente un regalo grandissimo da fare ai nonni perché, ripeto, per noi la famiglia è un altro elemento di cura, è importantissimo. Cioè, oltre alle nostre cure, è importante che il genitore parli con il neonato, è importante che lo tocchi, che lo coccoli, che possa raccontare una storia, una canzone, perché tutto questo migliora il suo sviluppo neuropsichico. Lei prima diceva, dottoressa, che nel periodo Covid sono aumentate le nascite premature. C'è una motivazione scientifica, medica? Purtroppo la motivazione scientifica non si è ancora capita, gli studi sono ancora in corso, sicuramente tra qualche tempo capiremo anche perché sono aumentate in questo periodo le nascite premature.